Poca luce sotto la lanterna per il derby di Genova numero 105, sette sconfitte di fila per la Samp di Ferrara, 5 per il Genoa, ultimo in classifica, Del Neri ritrova Borriello in avanti, in pala con la mobile proprio Alex, poca gara, a provare la costruzione parata da Romero, il bis 4 minuti più tardi. Non ho propongo io una. È completamente isolato, uno contro tre, Eder prova a passare, Eder! Ha fatto tutto il campo, sembrava UEA! Sampdoria, Bianca quasi in zona tiro e luce là, poi cerca ancora Icardi, Icardi prende la mira con il destro! Mauro! Allora riparte velocissimo Rispoli, guardate ancora al novantesimo, quanta energia ancora, attenzione perché centralmente sta bucando anche Zoriano, Rispoli fino in fondo, palla per Pozzi, Pozzi in area di rigore, Pozzi! Pozzi! È il gol della promozione, il gol della Serie A! Pozzi! Guardate la Sampdoria, è tutta in campo, impazzito Iacchini, impazzito! Cambiamo genere, eh! La Sampdoria che attacca, attenzione, c'è Cassano che vuole andare fino in fondo, Cassano, povo su di lui, un rimpallo, favorisce Cassano, grande giocata, Cassano, attenzione, mette dentro, Maggio, Rubinio, Maggio, e c'è il gol! La Sampdoria passa, Maggio al quarantaduesimo, 1-0! Maggio, dentro la curva! Quella più difficile ha fatto il colpo di testa dopo un'azione meravigliosa, stratosferica di Cassano, ha fatto tutto lui, infatti si è seduto, vuole tutto lo stadio per lui perché ha fatto un'azione incredibile! E poi il colpo di testa, Rubinio si supera ancora, e poi Maggio la posizione sicuramente molto defilata, trova un gol!